se uno dice no ma io devo cambiare anche le ruote a quel punto lì ne va da sé, come quando devi assemblarti la bici nuova gli dici ascolta lascia stare, dammela senza movimento centrale risparmi i soldi là e ci metti questo oppure funziona così e poi una catena di questi tipi, che dura il triplo cosa costa una catena normale? ma una catena durezza diciamo non è 45 euro 45 euro, questa la paghi 150 e ti do dal triplo non è che c'è il fungo però insomma essendo un lavoro manuale, artisanale se fai uno a uno, i cuscinetti, le gabiette non è che fai in fine, ci sono artisani con il laboratorio ti metti lì a calibrare a te, a te, a te se non sa la stia che fai 100.000 kg 50 punti venite in Italia si, pochi ma buoni si, 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 ma competenti si sa che farai c'è? ah no, non c'è bisogno almeno se dicono, c'è un cuscinetto da cambiare grazie grazie